Tutto per ridurre al minimo i disagi, però è stato programmato in modo da poter consentire il traffico regolare. A livello di lavori siamo molto soddisfatti dell'impresa che si è giudicato i lavori, stanno procedendo bene, siamo nei tempi. Per ora non si sono riscontrati neanche grandi disagi o particolari problemi nell'esecuzione dei lavori. Quando saranno completamente terminati? Come tempisti noi abbiamo fine anno per completare tutto l'intervento. Come è già stato detto, l'obiettivo è la prima fase di concluderla per l'inizio dell'anno scolastico, quindi ai primi di settembre dovrebbe essere finita la parte riguardo alle scuole. Poi si prosegue verso l'Arno, ci sono altre due fasi, però l'obiettivo è entro fine 2023 di concludere tutto.